Camini elettrici dall'Eroi Merlin sono in sconto! I camini elettrici in sconto dall'Eroi Merlin offrono calore e atmosfera accogliente, perfetti per soggiorni invernali in compagnia. Risparmia sulle bollette con camini elettrici che permettono di riscaldare casa senza l'uso del gas. Con il caminetto elettrico Ready Warm 2200 Curved Flames Secotec puoi ottenere eleganza e calore per stanze fino a 20 ml, ora a soli 112.006 euro. Il Breklin Caminetto Elettrico Venezia Nero 2000 Mandi riproduce un effetto fuoco a legna realistico e ha un pratico telecomando per regolare la fiamma. Grazie! Grazie! Grazie!